e salve simmers io sono berichelle e oggi siamo in un video super speciale perché in questo video creerò una simmina rosalinda questa sim la creo per la vincitrice del quiz che ho fatto tempo fa vi lascio il pallino qui sopra per andare a recuperarvi il video se volete per la vincitrice cecilia perché infatti c'erano state due vincitrici e niente questa simmina è per lei però è anche per tutti voi perché poi la metterò in galleria e niente cecilia mi ha detto solo di metterle come nome rosalinda ma non mi ha specificato come fare la simmina mi ha detto falla un po come voi tu a seconda del nome e io non so mi immagino questa sim dolce carina però anche sportiva quindi adesso vediamo un po come farla vi lascio alla musichetta e niente spero vi piaccia quindi vi lascio al video ciao 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 ed eccola qui ragazzi la nostra simmina rosalinda fatta e finita come vedete l'ho creata sì dolce con i tratti abbastanza dolci però anche molto sportiva come vi dicevo prima spero vi piaccia ve la metto in galleria ovviamente quindi la potete scaricare io l'ho creata con tutti i pack che avevo quindi non so se magari a voi che la scaricate a te Cecilia per te che l'ho creata se avrai tutte le cose che io ho messo che le ho messo addosso come vestiti capelli però nel caso la puoi sempre cambiare in ogni caso il viso rimarrà quello quindi non lo so spero vi piaccia ditemelo nei commenti vi rifaccio vedere tutti gli outfit lentamente così li potete vedere bene bene intanto vi saluto vi rimando ai prossimi gameplay arriverà presto l'after cinderella assassin creed ovviamente la miniserie di nuove stelle che sta quasi per finire ma non preoccupatevi perché poi arriveranno altre miniserie e tante altre cosine e niente ragazzi vi mando un bacione grande ci vediamo ai prossimi video ciao a tutti ciao